C'è qualcuno nella sbagliatoia o c'è uno? No, no, c'è Patelloro che sta arrivando e era convinto fosse alle 10 la partita Si manca Tonino che chiama ogni secondo i giocatori e dice Davido, Davido, Davido Non si rivedrà, a questi video sono andati, si si rivedrà, sicuro Tonino ti saluto, chissà dove sei, quale nave, quale nave metropolitana Disperso, ma perché non ti pia Facebook Tonino? Deve non approfittare gli X, ti fassi con azione Non credi? Tonino, mi manca il tuo Davido, Davido E' Bartolone, passa il mantello, è no? X Fa forte, già ho visto Che gioca quello si vede, questo piccolino Lo stesso colore del pallone, non è delle scarpe Sì, per questo funziona Non ti vale per due Sì, comunque non ti vale per due, mi diamo anche in 5 e 3 5 e 5 Si può far male ragazzi Ma si fa Ma si fa Non si si abitua al pallone del nuovo Ma si abitua Dice che la sua mancia il pallone Taglio Taglio Eccolo Ah, il sponsor del nuovo Si, daremo una dimostrazione ai Hatrick Come si gioca in 5 contro 4 La squadra è sempre nera, ma non è quella di richiusa Perciò Eccolo Perciò Eccolo Eccolo Perciò Eccolo 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 Pagliò Penso di sì, va bene, va e ti aggiungiamo, non so il problema. Non ce la faccio il gioco, panno il resto. Che stai ottenendo la cava? Il fratto è sto pieno. Andate a cambiare. Andate a cambiare! Andate a cambiare! Andate a cambiare. Andate a cambiare! E' la faccio. Come on! 1-0 per voi, ma non si è accorto che sono in quattro loro, il che non ha contato? Si spera che sia arrivato. Sapeva le 10, quindi bisogna vedere. Ecco i scafi di 2-0x. Vedete bene, sono in quattro. Forse è un'incomprensione tra i compagni di tutti. Sono giusto, erano contati. Sono il capocannoniere con 100 gol. Abbiamo fatto 100 gol in ostacolo. Il connoto è come se fossero in 5 contro 3. Guarda come fa quello. Un'altra volta di Filippo. Bene! Ok, certo. Aspetta, non sono io. Grazie. Grazie. Grazie a base. Grazie. 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 Grazie.